Piesa gremita, applausi e tanta commozione tra sciarpe bianco-rosse e bianco-nere. Varese e il mondo del calcio salutano così Pietro Anastasi, scomparso venerdì a 71 anni dopo una lunga malattia, la terribile SLA, che gli era stata diagnosticata tre anni fa dopo essere stato operato di un tumore all'intestino e che lo aveva devastato negli ultimi mesi prima di chiedere la sedazione assistita. Centinaia di persone si sono ritrovate per omaggiare Pietruzzo nella Basilica di San Vittore a Varese, il paese dove è diventato grande in campo tra il 1966 e il 1968 e dove lascia la moglie Anna e i due figli, attorno ai quali, oltre a una folla di amici, compaesani, appassionati e tifosi, si è stretto l'abbraccio di molti protagonisti del calcio tra dirigenti ed ex compagni. Tra gli altri presenti Beppe Marotta, Pavel Nedved, Fabio Capello, Roberto Bette, Galleleo Reali, Claudio Gentile e Carlo Muraro, con la FIGICI rappresentata dal segretario generale Marco Brunelli e la Lega Serie A dell'Head of Competition Andrea Butti, mentre Inter, Juve e la stessa FIGICI, hanno apposto il proprio gonfalone all'interno della chiesa. Lega e Feder Calcio ha al centro anche delle polemiche per il mancato minuto di silenzio sui campi. È vergognoso che non gli sia stato tributato un minuto di raccoglimento su tutti i campi della Serie A attacca gentile. La federazione se l'è un po' dimenticato, rincara Muraro.